...federale che ha voluto questa Assemblea, perché mentre il PD si sta scannando sulle regole interne e non si mette d'accordo, e poi sono quelli che stanno governando il nostro Paese, noi siamo qua per rilanciare la politica del nostro movimento, ma soprattutto siamo qua per dare ancora speranza alla nostra gente e ai nostri cittadini. Speranza, ma soprattutto risposte, perché i cittadini mai come ora si aspettano da noi e solo da noi queste risposte. Salve coraggio, e parlo prima di tutto a me stessa, salve coraggio che i governatori hanno, che i nostri sindaci hanno, che tutti noi qua dentro dobbiamo avere in questo momento storico. Il nostro tavolo si è occupato di tre grandi temi, il fiscal compact, l'euro e la politica estera. L'Unione Europea, il progetto europeo è fallito. L'Unione aveva promesso crescita per la nostra economia, sviluppo dei mercati, prosperità per le imprese e i cittadini, e aveva chiesto in cambio agli Stati membri l'accessione di importanti pererogrative. L'UE quindi si è trasformata in una sorta di dittatura fuori da ogni controllo democratico, che impone almeno l'80% delle norme che regolano la vita dei nostri cittadini. Il governo italiano, senza consultare i cittadini a differenza di altri Stati, ha rinunciato alla sovranità monetaria con l'euro, ha rinunciato al controllo dei confini con l'accordo di Schengel, ha rinunciato alla sovranità di bilancio fiscale col Fiscal Compact e col True Pax, che ricordo a tutti impone che il governo italiano consegni alla Commissione Europea entro il 15 ottobre la legge di bilancio, quindi ancora prima che il nostro Parlamento la valuti e la voti. Quindi sarà la Commissione Europea a decidere per noi. Quell'Europa di burocrati e di banchieri ha causato una situazione economica disastrosa. Vi do solo alcuni dati che già conoscete, ma è meglio ricordarlo soprattutto alla stampa che è fuori. Disoccupati in Italia sono più di 3 milioni, 3 milioni e 2, quasi il 13% della popolazione attiva. La disoccupazione giovanile è salita al 40%. Chiudono ogni giorno mille imprese, soprattutto al nord, perché qua si lavora. Impreditori che si suicidano perché non vogliono, licenziare i dipendenti che sono cresciuti in quell'azienda, solo 60 in Veneto. Il debito pubblico è stato citato prima, oltre 2.070 miliardi, il 132% del PIL. Solo la Grecia è peggio di noi. Ogni bambino che nasce ha già un debito sulle spalle di circa 35 mila euro. Quel debito pubblico, però, e lo dobbiamo gridare forte, non è stato creato dai Veneti, dai Lombardi, dai cittadini, dalle imprese, dai comuni, dalle regioni del nord. Siamo stanchi di pagare per le regioni del sud, per uno Stato che continua a chiedere sacrificio alla nostra gente, continua ad aumentare le tasse e a tagliare i servizi. Caro Letta, caro Barroso, non siamo stati noi, non è stato il nord a fare questo debito pubblico e a portare l'Italia verso il fallimento. Il Veneto ha un residuo fiscale attivo di circa 18 miliardi, la Lombardia di 56, il nord nel 2012 ha avuto un residuo fiscale di 95 miliardi. Noi possiamo, non vogliamo pagare ancora noi. Lo abbiamo fatto per 40 anni, ora basta. Basta. Vi do un altro dato che vi farà incazzare, ma è meglio così siamo più carichi da domani quando dobbiamo lottare, ancora una volta per la nostra gente. La spesa pubblica per il personale della regione Veneto incide per l'1,42 della spesa corrente totale. In Sicilia la spesa per il personale incide per il 12,5 del totale della spesa pubblica, dieci volte tante. Basta, basta, basta. Non possiamo accettare il fiscal compact che impone di ridurre il debito pubblico di almeno 45 miliardi l'anno. Anche perché è impossibile, è già stato detto prima da Garavaglia. Significa trovare per i prossimi momenti questa cifra quando questo governo non riesce a trovare almeno 2-3 miliardi per l'Imo o un miliardo per l'IVA e continuano intanto ad aumentare il debito pubblico e ad aumentare la tassazione. Non possiamo pagare ancora noi questo Stato con la brodo e spedaccione. Dovremmo aiutare la nostra gente, le nostre imprese, i nostri giovani, i nostri anziani. Non possiamo accettare che i trattati europei e gli accordi intergovernativi impongano pesanti vincoli di ordine economico e finanziario. Non possiamo accettare che ragioni politiche ed economiche legate all'interesse del mondo della finanza e delle banche abbiano deciso l'introduzione dell'euro imponendo una fusione forzata di economie troppo eterogenee. Non è mai stato chiesto agli italiani se volevano aderire all'euro, se erano favorevoli alla Costituzione, se erano d'accordo con i trattati di Maastricht o con il fiscal compact. Mai è stato chiesto, anche perché la risposta sarebbe stata ovvia. A un progetto di interrogazione comunitario guidato dalle banche deve sostituirsi un nuovo progetto d'Europa, fondata su un patto tra i popoli e i territori d'Europa. Anche la moneta deve essere l'espressione della volontà dei cittadini e dei popoli d'Europa. L'euro non può continuare a intussucare la nostra economia, mettendo i ginocchi e le nostre imprese e sottraendo alla nostra gente la ricchezza accumulata in tanti anni di lavoro e fatica. È indispensabile una nuova Europa che favorisca il superamento dei centralismi nazionali, rafforzi il ruolo delle regioni e delle macro regioni. E il Nord deve avere una moneta capace di sostenere la competitività del suo territorio economico. Dobbiamo superare l'euro attuale. Usciamo da questo sistema euro. È il momento di farlo. E a chi dice che non è possibile fare un referendum sui trattati europei o sull'euro, rispondo che le leggi, i trattati, le costituzioni si sono fatte dagli uomini e possono essere cambiate dagli uomini. Dare la parola al popolo. Restituire al popolo la possibilità di decidere democraticamente significa fare un atto di democrazia e di libertà. E non esiste Costituzione che possa ignorare la volontà democratica dei propri cittadini. Il futuro si chiama Europa dei popoli e delle regioni. E deve essere il popolo a decidere in quale Europa stare e quale moneta avere. Io voglio leggervi quattro passaggi della mozione che sono fondamentali e che quindi dobbiamo ripetere anche se alcuni concetti sono già espressi. Primo. Costruzione di un'Europa di popoli federale su base macro-regionale e regionale, legittimata politicamente dal popolo per superare gli stati nazionali. Uscita del sistema euro attuale tramite la rinegoziazione dei trattati anche attraverso la partecipazione popolare dei cittadini. Facciamo finalmente un referendum sull'euro al fine di realizzare una nuova moneta che rispetti le esigenze dell'economia reale tra i territori in grado di rispettare i principi della sana contabilità pubblica. Rialocare ai livelli istituzionali più funzionali, regioni e macro-regioni, le competenze oggi in capo all'Unione. Il fine è solo un breve passaggio ma fondamentale. È una situazione economica così grave. Dobbiamo interrompere le missioni internazionali del Paese e contrastare qualsiasi tipo di intervento militare futuro. Grazie.